Abbiamo bisogno di costruire delle sinergie con le altre forze civiche, le altre forze politiche alternative alla destra. Per questo continueremo a insistere con tutte le altre opposizioni sui tanti temi su cui possiamo unire le nostre forze, piuttosto che competere sulle nostre differenze che pure sono significative, intendiamoci, altrimenti saremmo nello stesso partito. Ma partiamo da noi, quindi, da ciò per cui noi ci battiamo. Tre sono i punti cardine della nostra visione del futuro. La giustizia sociale, il lavoro, la conversione ecologica. Questa è la cornice più ampia. In più di un'occasione, a partire dall'Assemblea nazionale del 12 marzo, ho voluto esplicitare come queste tre lotte intrecciate si declinino in concreto. Oggi è però il momento, lo dicevo, di chiedere a tutto il Partito, a tutte le sue articolazioni sul territorio, a tutto il gruppo dirigente, a tutte le iscritte e gli iscritti di mobilitarci insieme su questa nostra agenda. Quello che vi proponiamo è un'estate militante che ci porti per le strade, ci porti tra la gente, raccogliendo i bisogni e proponendo soluzioni concrete, facendo da punto di riferimento per coloro che già vivono sulla pelle le conseguenze delle scelte del Governo di Giorgia Meloni. Questo non è certamente quindi un elenco esaustivo di tutti i temi su cui stiamo lavorando, ma sono alcune piste di lavoro che proponiamo a questa direzione per le prossime settimane e mesi, per poi riaggiornarle, continuando la mobilitazione pure sulle altre importanti priorità nei mesi successivi. Su cosa quindi vi chiediamo di mobilitarci, partendo da due temi che sono assolutamente trasversali? Il primo, il Next Generation EU, l'attuazione del PNRR. Ricorderete che Giorgia Meloni ha passato mezza campagna elettorale a dire che bisognava cambiare il PNRR. Poi è arrivata al Governo, ci sta da nove mesi e ancora non ha detto all'Italia che cosa voglia cambiare. Direi che su un piano che dura fino al 2026 è un buon ritmo se si vogliono perdere miliardi di investimenti. Hanno discusso nove mesi di governance e di accentramento, che capiscono solo gli addetti ai lavori, mentre non hanno mosso un dito per sostenere gli enti locali nell'attuazione del piano. Ed ha ragione Paolo Gentiloni quando dice chiaramente che è sbagliato vederlo come una medicina amara. Ma è come se questo Governo invece lo subisse il PNRR, lo mal sopportasse, lo vivesse come un peso. Il più grande piano di investimento della storia europea, di cui l'Italia è maggior beneficiaria. Quasi 200 miliardi che sono un'occasione irripetibile per ammodernare e cambiare il Paese. Tradotto in pratica, stiamo parlando di centinaia di migliaia di opportunità di nuovi posti di lavoro, di ospedali, di case della comunità, di scuole, di asili nido, di infrastrutture, di investimenti per la conversione ecologica, di investimenti sull'innovazione digitale, di riduzione dei divari territoriali, generazionali e anche di quelli di genere. Sono mesi che chiediamo al Governo, lo sapete, di riferire in aula su quali modifiche intenda fare. Intanto perdiamo tempo e quindi rischiamo di perdere miliardi. La terza rata, con i suoi 19 miliardi, è ancora ferma, da febbraio. Siamo a giugno, sveglia. Dalla quarta rata, invece, altri 16 miliardi non si è ancora nessuna notizia. Noi monitoreremo tutto, da vicino. Guardate ad esempio gli investimenti sugli studentati. Li stanno trasformando in risorse che vanno alle strutture private, che però non creano strutturalmente posti letto pubblici in più per le studentesse e gli studenti.